Stamane intorno alle 6 i vigili del fuoco di Nereto hanno domato il rogo che ha distrutto la terrazza in legno dello stabilimento balneare Stella d'Oro di Alba Adriatica, danneggiando parzialmente anche la struttura muraria esterna. Il provvidenziale intervento dei pompieri del distaccamento di Nereto ha evitato danni maggiori, un incendio molto probabilmente di matrice dolosa. Secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco l'innesco sarebbe partito fronte mare coinvolgendo in prima battuta travi di legno e teloni, le fiamme hanno poi avvolto anche la struttura mandando in frantumi le vetrine. A dare l'allarme questa mattina è stato un passante che ha notato le fiamme e ha avvertito i vigili del fuoco di Nereto e uno dei titolari della struttura balneare che era in procinto di riaprire battenti. Il fuoco ha inghiottito soprattutto sedie, teloni e le strutture in legno che sostengono la struttura esterna dello chalet. La struttura principale invece non ha subito danni, ma di sicuro l'entità degli stessi è significativa e occorrerà lavoro e soldi per ripristinare il tutto in attesa della bella stagione.